Quando è ancora legato Ho letto che la parola personalità etimologicamente significa maschera. Perché? Commento Perché la personalità, l'io, è l'insieme delle caratteristiche fisiche, astrali e mentali che l'essere acquisisce quando è ancora legato al ciclo delle rinascite. Infatti nel teatro greco gli attori parlavano attraverso la maschera linea che indossavano in scena.